Questi giorni è stato come un sonno, che poi è diventato realtà e che adesso siamo qua e ci metteremo subito a disposizione. Allora è stato tutto molto veloce, appena ho sentito il nome della Juventus non ho avuto nessun dubbio perché qua si gioca per vincere. Il numero di Malia è stato il 28 perché era uno di quelli che era a disposizione, sempre mi è piaciuto l'8 e qua naturalmente ce l'ho da Claudio. E quindi ho scelto il 28 anche perché è stata la mia età dove sono arrivato qua. Penso che ognuno di voi ha un leader dentro, bisogna solo trovarlo e buttarlo fuori. Io cerco di prepararmi perché comunque penso che i giocatori devono anche crescere come persona. Per il mio paese è una cosa meravigliosa perché il nostro calcio sta crescendo. e il fatto che un giocatore sia oggi in un club importante come la Juventus aprirà tante porte per i giocatori venezuelani. Quindi tutto il paese è molto contento, aspettano molto di me e io sono molto orgoglioso di portare questa bandiera qua.